Il mio ultimo professore dell'italiano ci diceva Probabilmente non avrebbero opportunità di parlare frequentemente l'italiano nella vostra vita professionale Ma non dimenticate la quella lingua, è la lingua del cuore E la lingua del cuore è la lingua del popolo italiano E questa iniziativa mi trova Enrico E l'expression même del cuore che carattere il popolo italiano E la lingua della lingua della lingua Il presidente della regione diceva un gesto semplice Ma è talmente forte, talmente forte Talmente forte, d'abord, per l'authenticità Ce ne sono pas le grandi manifestazioni che sono le più symboliche, le più significative Ce sono dei gesti, semplici, perché hanno un senso Le senso l'emporta su tutte le altre carattere di questo gesto Io devo dire che le giudicelli che è qui è là e noi abbiamo stato, come tutto il Consiglio Municipale di Monton, hier, buleversi quando noi abbiamo conosciuto la tua initiativa Perché? Perché? Perché, d'abord, io mi sento un certo sentimento di culpabilità Di culpabilità a l'égare di Enrico, di Valentimili e dell'Italia A l'occasione della maniera in cui abbiamo più o meno giro il problema dei migrani E io mi dicevole, noi, del conto francese, fermiamo la frontiera E poi, del conto di Valentimili, ci accuegono, ci accuegono, ci accuegono, ci accuegono Non c'è di fiduciare la ps�ilig usted praticamente Depo le lont data Di me *** Due Spartalia reso la sua sensibilità E noi non ci accuegono,sperte seno, sono molto felice Di avere questa att Аt Prince Ma in mentre, dopo Il είναι stato necessario Di avere l'esti struttamente interiore francese, le collettive francese. De la stessa forma, ci siamo trovati che i accordi Schengen, che non sono stati conciuti per proteggere le frontiere extérieur e che lasciano la responsabilità a l'Italia, come a la Grèce, devono essere pensati. Il faut che l'Europa sache apporter il nostro supporto necessario ai paesi che guardano le frontiere extérieur di l'Europa. Ci siamo stati borgersi e abbiamo visto in questo gesto di la proximità, abbiamo visto di la sympathia, abbiamo visto anche di la fraternità. perché noi lo viviamo, noi, intensamente. Ciò è stato detto. La frontiere, sì, ma parte e d'altra, di la frontiere. noi siamo gli stai non solo perché siamo gli stai ma parte, ma perché abbiamo le stai le stai la stai la stai la stai la stai Qu'en gros ce sont les mêmes familles Qui sont de part et d'autre De la frontière Qu'on vit de la même manière Et que l'on se sent Vraiment très proche De nous autres Les Les sœurs latines Cette expression Qui pour moi a du sens Est plus vraie que Que jamais Quand on peut participer A une telle A une telle initiative Ce qui s'est passé A Paris Et la réplique Comme on dirait En matière de catastrophe Sismique De ce qu'avait été le 11 janvier De ce qu'avaient été Les marches Je suis Charlie Elles illustrent probablement Des relations Particulières De la France Avec Avec le fanatisme Musulman Au passage Permettez-moi de remercier Les musulmans Qui sont ici Qui ont eu Le courage Et Et le besoin De venir Dire qu'ils n'étaient pas solidaires Avec ce Qu'ils n'étaient pas solidaires Qui pratiquent Les musulmans Parce que je voulais nous dire Que pour eux L'islam Ce n'est pas ça Que l'islam Est une religion De paix Que l'islam Comme Aucune autre religion Ne doit être Instrumentalisé A des fins De pouvoir Politique Et nous en sommes Merci Merci Grazie a tutti.